Oggi andiamo a visitare lo Zeppelin Museum. Buongiorno a tutti, benvenuti a Friedrichshafen, siamo al museo del dirigibile e della tecnologia. Ecco, ci siamo all'interno del dirigibile, abbiamo i bagni, Damen, Damen sono le donne, chiuso, saliamo su sul dirigibile. E' grosso sia il dirigibile. Questa è una sala per i passeggeri. E' qua la stanza dove eravamo sotto prima, c'è un po' un'altra sala d'aspetto. A Italia, Graf Zeppelin, questo potrebbe essere il motore del dirigibile, questo si. E' qua, i resti della guerra. Questa qua è l'elica, guardate quanto è grossa, sarà, direi che 2, 2, 4, almeno 4 metri di elica sarà. Ah, questo è un megafono, vecchio stile, deve essere anche bello pesante. Questo è un dirigibile nazista, questo è l'hangar per contenere il dirigibile quando non vola. Quale è una bomba a forma di dirigibile? Il trono. Andiamo a vedere dove trovivano sul dirigibile. Questa è la camera, il bagnetto, poi c'è anche un guardaroba, non si può entrare, però c'è un letto castello. E poi c'è una camera singola. Camera singola, sempre col suo lavabo, armadietto, specchio. Tutti arrivano qua. Grazie a tutti. Dal Museo Zeppelin è tutto, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!